Jet R-Turn Iscar ha ampliato la linea Jet Cut con l'introduzione degli utensili per tornitura dotati del rigido serraggio Jet R-Turn, che ha anche la funzione di ugello refrigerante. Fino ad ora, gli utensili per tornitura Jet Cut erano dotati del solo serraggio a leva, dato che una staffa superiore avrebbe ostruito il flusso del refrigerante verso il tagliente in lavorazione. Il nuovo design integra la tecnologia Jet Cut ed il serraggio rigido, che permette al refrigerante ad alta pressione di raggiungere la zona senza compromettere la rigidità di serraggio. Il serraggio, molto robusto ed affidabile, assicura ottime performance anche in lavorazioni gravose e tagli interrotti. Iscar fornisce gli utensili con serraggio rigido Jet R-Turn per le più diffuse geometrie ed inserti standard CNMG, WNMG e DNMG. I nuovi utensili esterni sono dotati di tre possibili ingressi del refrigerante inferiore, posteriore e connessione inferiore per sporgenze regolabili, per utensili Iscar JHPMC. Tutti gli utensili esterni hanno anche un ugello refrigerante sul fondo direzionato sulla spoglia dell'inserto, che migliora l'azione refrigerante. Il refrigerante interno assicura maggiori durate, miglior controllo del trucciolo e produttività, soprattutto con pressioni elevate. Inoltre, anche con pressioni standard da 10-15 bar, si ottengono migliori performance rispetto alla refrigerazione esterna. La linea offre un'ampia varietà di utensili quadri esterni e barre per interni ed una selezione di attacchi VDI con molteplici orientamenti e sporgenze. Grazie a tutti!